Ciao Don, perché ai sacerdoti prima di dire il proprio nome si usa inserire il Don? Se io facessi a molti questa domanda, sono certo che non avrei una risposta. Avrei risposte sbagliate. Perché? Perché noi facciamo molto spesso le azioni o perché così fanno tutti o per abitudine, senza domandarci come hai fatto tu il chiedersi ma perché avviene magari questa consuetudine. Il motivo parte al 1200, quando con la parola Don si identificavano e si chiamavano i nobili appartementi a una famiglia, o per indicare proprio quelle persone degne di rispetto e in particolare quei sacerdoti presenti in famiglie nobiliari. Dante ce lo ricorda questo, ma in seguito questo che apparteneva alla storia è diventata ormai una consuetudine di chiamare e identificare con il prefisso Don tutti i sacerdoti. Perché Don deriva dal latino dominus, che significa signore o padrone. Allora è come dire buongiorno, signor è il nome poi del sacerdote. Allora se nell'antichità questo era un prefisso degno di rispetto, che identificava magari un sacerdote proprio di famiglia nobile, oggi non è importante il mantenere o addirittura l'omettere questo prefisso. Perché la nobiltà non è data dai titoli, ma è data dalla grandezza d'animo e dall'acquisizione delle virtù. Se siete stati felici di questa risposta vi invito a mettervi ancora in dialogo su altre domande, proprio mandandole al mio contatto Don Peppe. Come hanno fatto questi giovani? In qualche modo, come ci ricorda Benedetto XVI, restiamo in dialogo sulla nostra fede. Ciao!